Siamo ai Bimbo in Viaggio Awards 2019 e approfitto per fare qualche intervista ai proprietari delle strutture che aderiscono al portale bimboinviaggio.com. Siamo qui con il signor Rubicini del Campi Village Riva Verde di Altidona nelle Marche al quale vorrei chiedere qualcosa sulle nuove tendenze, nuovi gusti e aspettative delle famiglie e qualche precisazione sui punti di forza del suo bellissimo villaggio. Grazie innanzitutto dell'invito e la ringrazio ovviamente perché per noi è un portale di altissimo successo che ha un eccellente riscontro perché naturalmente è profilato sulle famiglie con bambini che sono precisamente il nostro target. Naturalmente teniamo presente che da diversi anni la fascia che sta scegliendo nel nostro caso la villagistica sono quelle famiglie che hanno bambini e necessitano naturalmente di una multitudine di servizi che noi cerchiamo ogni anno sempre di migliorare e di essere sempre più performanti dando magari dei servizi addirittura dai bambini da uno o due anni fino naturalmente agli adolescenti con tornei in pianti sportivi anche di altissimo livello. Infatti quello che si sta cercando nel tempo è di alzare sempre lo standard per poter monitorare quelle famiglie che magari in passato hanno avuto anche esperienze alberghiero perché la villagistica naturalmente ha il vantaggio di poter offrire la natura vita all'aria aperta e amplissimi spazi. Naturalmente all'interno della mia realtà abbiamo un parco acquatico di 6.000 metri con 5 piscine. Grazie signor Rubicini, effettivamente è una struttura molto originale. Vi consiglio di andarla a vedere sul nostro sito bambambiaggio.com troverete una descrizione molto accurata e dettagliata di tutti i servizi e le particolarità che questa struttura offre alle famiglie. Grazie.